Signori, eccoci al quinto appuntamento con la lista dei 50 film peggiori della storia del cinema. Questa sera troviamo Congo, del 1995, diretto da Frank Marshall, con Laura Linney, Ernie Hudson e Dylan Walsh. Da un bel romanzo di Michael Crichton, concentrato sugli esperimenti per comunicare con i gorilla, un pasticcio avventuroso fantastico, andato peraltro malissimo al botteghino.